vai si può parlare almeno si? si che cazzo mi stai combinando c'è ora un'oretta e mezza eh però senti io dovrei stare con me così tre ore? no, no, un'oretta e mezza per andare sul posto eh, un'oretta e mezza devo stare così con il trattore C ho capito, la cambia mezzo, scusa eh ma non so se devi fare sui due volte basta che ne facciamo prima perché non posso stare tre anni così, hai visto tre anni eh però mi stai bloccato apposta la gomma, vedi? ho il quadro, che culo apposta, no, beh non ho il quadro magari non ho il quadro su ma io un primo piano mi raccomando tu, vuoi che fai? vai 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 aspetta meglio sbattere che se no te fai una botta un zumbo, porca mondo che classico questo con la giacca sul quad porca mondo è il michael che c'entra a michael? è perchè deglossi, michael ah io pensavo a michael sembra un altro stranso no, michael qui è qua no, questo è michael no, questo è michael ma sai perché con tutte le stranzate che che cazzo non la si chiama? un sasso che era un sasso mezza strade un sasso mezza strade era, era, era un po' super sbrigati che ti amo e cominciò a fumare le braccia in me le braccia dai 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 un lupo dai, c'è ammazzati 5 km un lupo come un lupo fedele era un lupo, si mi vedi come ho fatto girarmi la macchina cazzo non era quello di prima però no resuscita? no, eh, magari stava ancora lì ti staccio me l'ho ammazzato che poi era resuscita no resuscita, ma era rimasto ancora lì però era di prima io l'ho ammazzato porco mondo, questo è fantastico no dai 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 è fantastico non devi ricordare noi vabbè dai ora non posso stoppare la droga questa è la fantastica comunque che botte ma poi perché alla fine vabbè dopo dovete parlare perché non ti posso ripiare proprio mai che gli fai? vabbè è una cosa che per il suo video alla fine non posso non va bene però che gli fai? che gli fai? gli fai piuttosto sbrigati perché ho tre anni qui c'è un germano dai veloce veloce 4-4 km sbrigati vabbè 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 sbrigati trovi anche una scorciatoia non già sta una scorciatoia sì se vuoi filtrare l'acqua c no no vai vai come ti pare basta che se sbrigati vabbè basta che tu sbrigati vabbè vabbè un altro quad però se io qui c'è degli problemi perché ogni volta che tu begli una cosa non trovi altre macchine non è vero si è vero trovi sempre le cose che guidi tu comunque stessa quale devi essere natro natro quad natro quad no questa è una macchina scusa macchina però prima tu guardi è passato attenzione una macchina non è un'altra macchina ma no una macchina non è una macchina lascia glielo vabbè ti pensi solo al riasuo mi ha messo mi ha messo uno qui grazie ha 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 ti colpito a me che voi ti colpito a me il lindi a proposito non mi puoi anticipare niente su questo posto che posto è che roba è ti devo fare 3 1 2 3 4 5 6 7 8 foto è importante interessante questo che potrebbero rivoluzionare allora sì allora c'è sicuro hai una botta di sfagelli porco è un quad appunto non è una macchina che se vai sbattendo vai cosa questo ti sforni proprio ah va tu sei che hai portato un quad eh? no io sì nella realtà no io sì a me gli gusti che però gli piccoli però no qui eh allora che cazzo ma sembra un quad è scusa eh questo o era proprio questo non lo so c'è la grandezza più o meno sarà un 50 sicuro eh per forza ma sei un ciuco 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 ok questo era un giocato un 25 non può di essere ma come cazzo fai il piano i 25? fa non fai i 25 è impossibile ah non esiste e allora lo mette saci cioè esiste ma i peli motoretti i peli motoretti più che il minimoto certo sei un attimo più qua dentro oh sarei fatto 40.000 botte dall'inizio e fa ammazza anzi questo luco no non è vero non lascio sempre però se c'è stato un giocatore quasi qua c'è un mazzo ti hai visto che i giocatori qua? si si nota stai andando che ti stai per cascare sotto cazzo fai il WOD eh vedi cazzi tu c'è un WOD io non me ne frego io te lo dico per te io te lo dico per te comunque ti riesco già la macchina che mi ha perso va va facciamo spiderman si si te la fa sicuro questo eh spiderman spiderman eh però questo non è tanto resistente ah non beh me lo be no eh cosa dicendo? le 4 ah oh dai è bella oh un attimo sono arrivato allora adesso un po' tardi eh però zom ma co d'adi eh però Siamo arrivati a 6 minuti, io te lo dico. Se hai lo spazio, ti basta. Ho la moto che culo. Non mi serve. Ti basta 6 minuti. Allora? Ma io sbrigassi. Ti vuoi dire? Lì sotto c'è lo solito segno. Ma dove? Lì sotto. Lo so. Il nome non lo vedo. Quella affare nero, vedi? C'è una cosa rossa. Non lo vedo, vedi più meglio. Sarà meglio cucire. Stai felici cucito? Ah ok, cucito ho visto, sì. Anche per farlo vedere anche al ladri. Non so. Per farlo vedere anche al ladri, mica solo a me. Cominciamo a cercare i segni. Noni! Cominciamo a cercare i segni. Ah 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 ah. Vai sbrigate, però. Porco mondo. Poi fai una botta, tu muori. Amore. Per sfagelli muori. No, c'è stata un'occhiata, lo zio. Ma sbatti muori. Fatto? No. Com'è no ancora? Porco mondo. ma non si è cascato portaci si è bloccato lì si è ingolfato qualcuno qualcuno la stella due stelle due stelle e ho capito però sicuro che non ti trova? sicuro stelle ricotte che si trova sto cazzo allora io devo andare esattamente devo andare sotto possibimente adesso è morto addio morto? no guarda io lo scudo fatto? grazie a dio hai stop? dopo 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 dopo